Ah belli, come state? Allora, in bocca al lupo per questa Eurovision, mi mancate tantissimo, voglio dirvi una cosa e basta. Venite a fare l'Aliah, non abbiamo nessun'altra casa, c'è solamente Eretz Israel e il Benachiva sa come darvi questo valore. Quindi, ciao a tutti, vi aspetto tutti qua, vi voglio bene, Ighia Smanaliah! Kadima Benachiva! Ciao! Ciao!